Carissimi amici, benvenuti innanzitutto in questa nuova lezione di fisiologia. Nella precedente lezione abbiamo terminato di parlare nel dettaglio di quella che è l'attività elettrica del cuore. Vi ho però detto che tale attività elettrica può essere registrata con il famosissimo elettrocardiogramma ECG, che più o meno ognuno di voi ha fatto almeno una volta nella vita. Ora avrete quindi sicuramente visto un tracciato ECG, se non l'avete mai visto, google le immagini, cercatelo e lo vedete. È talmente famoso che perfino, veramente, non credo esista persona al mondo dotata di, persona al mondo diciamo normale, ecco diciamo così, da una certa età in poi, ovviamente non parlo di un bambino di scuole elementari, ma non credo che esista persona al mondo studente, universitario, ecco che non abbia mai visto un tracciato ECG nella sua vita. Quindi sapete di che cosa sto parlando? è quello che vedete nel tracciato proprio in nero, altro, non è che una serie di onde e di intervalli che si ripetono, quindi quando con l'elettrocardiogramma iniziamo a registrare l'attività elettrica del cuore, posizionando gli elettrodi nel dovuto modo, non sto qui a spiegarvi la tecnica, poi in caso la vedremo a parte in altri videocorsi, ma non è qui che vi interessa, ecco vediamo appunto un susseguirsi di queste onde e tratti, ecco qui, quindi vedete una roba del genere, è terminato, cosa fa? Ricomincia nuovamente, è terminata la seconda volta, ricomincia per la terza volta e così via, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, la tala, la nona, la decima e via dicendo, a meno che non siate morti e allora il tracciato ECG si appiattisce, potrebbe anche essere che si rompa l'elettrocardiografo, forse è meglio così che essere morti. In ogni caso, se noi prendiamo quindi un solo tratto che si ripete comunque, quindi a noi interessa capire fondamentalmente che cosa ci dice un solo tratto, perché compreso cosa ci dice un solo tratto sappiamo anche cosa ci dicono gli altri tratti e in quello che è un corso di fisiologia vi interessa comprendere da un punto di vista fisiologico, non patologico, che cosa stanno ad indicare questi tratti. Ovviamente poi se studierete patologia, via dicendo, coloro di voi, questo per chi studia medicina e andranno poi a specializzarsi in cardiologia, ovviamente dovrete sapere vita, morte e miracoli di tutti i vari tipi di ECG che avete tra le mani, cercando di comprendere qualunque tipologia di disfunzione cardiaca che possa essere osservata attraverso un ECG. Io credo che voi anche per cultura generale sappiate che non è possibile ovviamente valutare tutta la, diciamo, la, così, in parole semplici, la salute del nostro cuore, non la si può ovviamente valutare soltanto con l'ECG. L'elettrocardiogramma, se lo facciamo in quel momento X, da quel momento X in poi ci dice qual è l'attività elettrica del nostro cuore, quindi quella che vi ho spiegato fino alla fine della precedente lezione. Quindi, prendendo un tratto di elettrocardiogramma che si ripete, che cosa significano? Vediamo delle onde e vediamo dei tratti, degli intervalli, intervalli, degli intervalli, come per esempio questo intervallo, l'intervallo QT e via dicendo. Quindi, essenzialmente, vediamo onde e tratti. Dobbiamo comprendere che cosa significano. I nomi di queste onde e di questi tratti sono sempre uguali in tutti i libri. Quindi, abbiamo l'onda P, questa prende il nome di onda P, adesso vedremo che cosa significa. Qui abbiamo un complesso che è sempre quello, detto complesso QRS, ecco questo andamento, e questa è detta onda T. E poi abbiamo i vari intervalli, vedremo quali dovrete memorizzare e cosa ci dicono. Allora, io vi ho scritto qualcosina qui, ma ovviamente, voi dovete ascoltarmi, perché quello che vi scrivo è un po' una traccia, diciamo così, per mantenere un filo logico, però non dovete dire onda P uguale depolarizzazione atriale complesso QRS, depolarizzazione ventricolare, tratto ST, tipolarizzazione ventricolare, ovviamente dovete dire magari anche qualcosina in più. Io non sempre vi scrivo tutto, come vi dico spesso. Allora, quindi, ponete di esser lì a fare un elettrocardiogramma, quindi vi mettono gli elettrodi in precisi punti, inizia a registrare, e questi elettrodi iniziano a registrare l'attività elettrica del cuore da quel momento in poi, e quindi esce fuori un tracciato che è visibile, e ovviamente questo tracciato poi viene anche, il dispositivo lo fa uscire fuori sotto forma cartacea, così che ve lo possiate portare e farlo vedere in caso, appunto, per eventuali valutazioni. Qui non vi interessano queste cose, vi interessa cosa? Significano queste onde, che appunto, qual è l'attività, come viene registrata l'attività elettrica del cuore. Quindi, quando io guardo un elettrocardiogramma ECG, che cosa sta ad indicare l'onda P, che è la prima onda che vedo, perché appunto è un'onticella, un tratto, altro non è che un segmento, un tratto, altro non è che questi tratti qui, o meglio, più che tratti, li chiamiamo intervalli, un intervallo è un intervallo di tempo che sta a significare qualcosa. Quel qualcosa, in parte ve l'ho scritto, ma adesso ve lo dico bene, ve lo dico meglio. Quindi abbiamo onde e intervalli. Allora, l'onda P, essenzialmente, vi ho scritto depolarizzazione atriale. Perché depolarizzazione atriale? Perché quando io nell'elettroencefalogramma vedo che sorge l'onda P, nell'elettrocardiogramma, scusate, non nell'elettroencefalogramma, faremo anche l'elettroencefalogramma, quindi vedremo anche come viene valutata l'attività elettrica del cervello. Ma qua parliamo ovviamente dell'elettrocardiogramma. Ora, quando nell'elettrocardiogramma viene registrata l'onda P, la vedete proprio nel display, l'onda P, oppure su carta, vedete, l'onda P, questa sta ad indicare che si sta depolarizzando il nostro atrio. Io vi ho spiegato la depolarizzazione atriale, vi dicendo tutto il... vi ho spiegato tutta l'attività elettrica cardiaca. Quindi ovviamente la do per scontata, dopo scontato, che abbiate seguito le precedenti lezioni, se non qui ovviamente capite meno, ma meno, ma meno, ma meno di niente. Quindi dando per scontato che abbiate studiato, allora sappiate che quando vedete l'onda P questo significa che il nostro atrio si sta depolarizzando, questo sta ad indicare l'onda P. Poi, dopodiché, per adesso se andiamo a guardare le onde i complessi, poi vedremo gli intervalli. Vediamo il... ecco il tracciato continua, ci fa l'onda P e poi questo complesso QRS. Quindi il tracciato si abbassa per poi innalzarsi, per poi abbassarsi e ritornare di nuovo a livello. Cos'è questo complesso QRS? Che cosa mi dice questo complesso QRS? Altro, non mi dice che il ventricolo si sta depolarizzando. Il mio ventricolo si sta depolarizzando, quindi il complesso QRS è indice di una depolarizzazione ventricolare. Se non vedete questo complesso QRS nell'elettrocardiogramma, ovviamente è grave, perché vuol dire che non si stanno depolarizzando dei ventricoli. Quindi, mi raccomando, la depolarizzazione ventricolare la vedete grazie alla presenza proprio visiva di questo complesso QRS. Poi, in ambito patologico, dovete essere anche in grado di capire delle variazioni, proprio in termini di disegno, variazioni visive del tratto QRS, dove ci sono anche tutte quelle robe lì, ma che non vi interessano per adesso, perché stiamo parlando di un cuore che funziona normalmente, quindi di un'attività elettrica normale, di un soggetto vivo, ovviamente. Se no, il tracciato sarebbe piatto, non sarebbe registrata alcuna attività elettrica. Questo sta ad indicare il complesso QRS, che il mio ventricolo si sta depolarizzando, è semplicissimo. E poi, seguendo sempre il nostro tracciato, l'ECG, da SAT, questo livello qui, da SAT, questo è un periodo di tempo che ci dice che cosa? Che il ventricolo si sta ripolarizzando, mentre il tratto QRS, indice di depolarizzazione ventricolare, ecco, questo intervallo da S alla fine dell'onda T, ci dice che il nostro ventricolo si sta ripolarizzando, quindi ST vi ho messo ripolarizzazione ventricolare. Quindi, il concetto è non semplice, ancora di più. È semplicissimo, ma a patto che abbiate ascoltato prima le precedenti lezioni, e soprattutto la precedente lezione, dove ovviamente vi parlo dell'attività elettrica cardiaca. Passiamo agli intervalli che vedete. Possiamo vedere nel nostro tracciato ECG, quindi nel nostro elettrocardiogramma, degli intervalli. Quelli che vi interessano sono l'intervallo PQ, queste cose le potete vedere anche qui, che praticamente è quell'intervallo che mi va dall'inizio, da inizio P, ecco, diciamo così, a inizio Q. Questo intervallo che cosa mi dice? altro non mi dice che è il tempo necessario affinché l'impulso nervoso, l'impulso elettrico, che ha origine, che si genera nel nodo seno-atriale, come sapete, raggiunga il ventricolo. Quindi, questo tratto, dall'inizio dell'onda P a inizio Q, mi sta ad indicare questo. Quindi, tempo necessario affinché l'impulso elettrico vada dal nodo seno-atriale, dove hanno origine gli impulsi nervosi, al ventricolo. È il nodo seno-atriale che genera, eh, che genera, senza bisogno del sistema nervoso, eh, genera automaticamente, in continuazione, uno di seguito all'altro, potenziali d'azione. Ve l'ho già spiegato, si depolarizza da solo, per le motivazioni che vi ho già spiegato. Quindi questo è il nostro intervallo PQ. Adesso, questo è giusto per saperlo, per sempre per quanto riguarda l'intervallo PQ, giusto per sapere qualcosina in più. Siccome, eh, eh, in gran parte del tempo, questo intervallo è qualcosa che accade a livello del nodo atrioventricolare, quindi un tempo che descrive l'evento che vi ho detto, soprattutto, la maggior parte del tempo a livello del nodo atrioventricolare, significa che, eh, se c'è qualcosa che non va a livello di questo intervallo, quindi intervallo PQ, se c'è qualcosa che non va, vuol dire, ovviamente 2 più 2 fa 4, che potrebbe esserci qualche problema a livello del nodo atrioventricolare. Grazie. 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 Grazie.